A partire dal 1 gennaio cambieranno le tariffe del trasporto pubblico cittadino. Il biglietto integrato, che permette di prendere ogni tipo di mezzo nell'arco di 90 minuti, passa a 1,50 euro. Nasce in parallelo il biglietto ANM di corsa singola che costerà 1 euro. Il 60% di chi utilizza la rete su ferro, sia la linea 1 che la funicolare, abbiamo rilevato che effettua un unico viaggio. E quindi ci sembrava conguro offrire una tariffa adeguata, quindi una tariffa inferiore rispetto a quella integrata che resta tuttora valida. È una tariffa vantaggiosa rispetto a prima che era di 1,30 euro e a quello che sarà dal 1 gennaio con 1,50 euro. L'azienda comunale ANM, che gestisce gli autobus e i tram, le funicolari e la metro linea 1, sperimenta tariffe aziendali ridotte fra il 15 e il 35% rispetto a quelle del biglietto unico. 3,50 euro per il biglietto giornaliero, 12 euro per il settimanale, 35 euro per l'abbonamento mensile, 235,20 euro per quello annuale. Con i biglietti aziendali si potrà viaggiare, come una volta, soltanto sui mezzi di ciascuna compagnia. Siamo soddisfatti che si possa affiancare un biglietto di corsa semplice, soprattutto per chi usa la funicolare o la metropolitana, solo per un breve tragitto. Siamo perplessi per il fatto che si accavallano più tipologie di biglietti, per esempio sui mezzi dell'Eav, quindi della regione, ci sarà il biglietto di 1,20 euro, su quelli, diciamo, della NM 1 euro, che senz'altro è vantaggioso, però immaginiamo qualche persona anziana, persone forestiere, vedendo perché ci sono anche zone della città dove passano tutte e due le linee, le tipologie di linee di proprietà regionale, di proprietà comunale, potranno avere anche dei problemi. Creati anche tre diversi profili per i collegamenti con alcuni comuni dell'area metropolitana. Fra gli obiettivi dichiarati di ANM, la fidelizzazione dell'utenza e la riduzione del tasso di evasione. I biglietti aziendali saranno in vendita attraverso la stessa rete del biglietto unico, compresi alcuni distributori automatici. La filosofia che c'è dietro a queste tariffe è quella di, insomma, in qualche maniera di avvicinare, mentre l'offerta dell'azienda, le domande degli utenti. Su questa idea si è cercato di progettare il biglietto aziendale. In questa idea è stata arricchita molta l'offerta di bigliettazione. Questa è la progettazione. Poi ci sarà la fase successiva, che sarà la fase della verifica. Dobbiamo verificare se gli obiettivi che ci eravamo proposti, insomma, appunto, del gradimento dell'offerta da parte degli utenti, appunto, del contrasto all'evasione della tariffazione, li abbiamo raggiunto meno, a fine anno tireremo le somme e potremo ritarare, eventualmente, se ce ne sarà necessità, meglio il lavoro fatto.